L'Università Cattolica del Sacro Cuore, su iniziativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha istituito presso la Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II di Campobasso il Master Universitario di Primo Livello in Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica. La presentazione del corso stamattina nell'Aula Crucitti della Fondazione alla presenza del Direttore Generale Mario Zappia, del Direttore Sanitario Maria Teresa Mucci, del Commissario per la Sanità Angelo Giustini, del Direttore di Ortopedia e Traumatologia del Gemelli Giulio Maccauro, del Direttore del Master Angelo Farina e del Referente dell'Area Ricerca della Fondazione Eugenio Caradonna. La medicina rigenerativa è una disciplina innovativa che si propone di riparare organi adulti umani danneggiati con l'intento di restituire loro l'integrità strutturale e funzionale dell'organo sano. Potrebbe offrire nuove possibilità terapeutiche per combattere patologie neurodegenerative e alcune malattie neurologiche gravi e invalidanti. Il DG Zappia ha annunciato l'attivazione di camere sterili e sottolineato la volontà della Fondazione, che sta proseguendo nel programma di integrazione con il Gemelli, di offrire al Molise e alle regioni limitrofe nuove prospettive della medicina nazionale ed internazionale. Parola d'ordine, formazione e innovazione, al passo con i tempi, con le nuove scoperte della medicina, genomica, radiomiche, epigenetiche, ingegneria molecolare, cellule staminali. Noi in questo momento siamo impegnatissimi con la ricerca, perché abbiamo un programma su tutte queste materie di ricerca traslazionale da trasferire ai malati. Abbiamo realizzato, ancora non finita, ma abbiamo realizzato le camere sterili per i trapianti di cellule staminali. Il futuro della medicina è ben diverso da quello che abbiamo conosciuto finora e noi vogliamo essere al passo con i tempi, ma vogliamo che queste cose siano effettivamente fruibili anche dai mali sani. Il Master, organizzato in collaborazione con la Simcri, Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica, nasce dall'esigenza di preparare professionalmente medici ed altre figure sanitarie all'impiego delle tecniche di medicina e chirurgia rigenerativa più innovative ed efficaci. Il lavoro scientifico è stato curato dal professore Eugenio Caradonna, segretario del Master. La parola ordine è formazione, questo è un Master dell'Università Cattolica, ufficiale, il primo di questa scia sulla medicina rigenerativa, che è un argomento di grandissima importanza e qui vengono trattate tutte le specialità. Ed è un segnale di particolare importanza che l'Università Cattolica per questo importante Master innovativo ha voluto scegliere la sede di Campobasso.